Una rassegna che è andata ben al di là dell'esposizione tra gli stand, la nona mostra aeronautica è stato momento di incontro, promozione, celebrazione, ricordo e divertimento. Si è conclusa il campovolo di Valcorrente dell'aeroclub di Catania con voli dimostrativi di aeromodelli, elicotteri radiocomandati e droni la manifestazione organizzata dall'Istituto Tecnico Ferrarin di Catania. È andata tutto bene, questa nona mostra aeronautica è andata al di là di ogni più rosa aspettativa, si conclude oggi con questa bellissima giornata, anche il tempo è clemente, c'è tanta gente appassionata che è venuta a vedere questi aeromodelli, questi bravissimi piloti che stanno dando dimostrazione di grande abilità e soprattutto con la soddisfazione di aver fatto conoscere il mondo aeronautico anche a degli utenti che magari non lo conoscevano. Perché chi è dentro, chi è appassionato, ovviamente conosce questo mondo, lo vive, ma l'obiettivo di questa mostra era anche l'apertura al territorio, a nuovi interessi. Dibattiti, dimostrazioni pratiche, incontri formativi. Il momento clou della nona mostra aeronautica è stata la premiazione del concorso a premi L'Uomo, il Cielo e il Volo, cui hanno preso parte gli studenti del Ferrarin, del Liceo Artistico Lazzaro e dell'Istituto Comprensivo Malerba di Catania. Ospite d'onore, Laura Mancuso, moglie del deltaplanista Angelo Darigo, scomparso nel 2006, che ancora oggi per molti è il simbolo della passione per il volo.